A fine luglio per la precisione il 25 uscirà il nuovo brawler Clancy, per tutti il primo agosto. Sarà un damage dealer di rarità mitica, probabilmente sarà molto rotto ed è tipo un transformer, simile ad energetic per intenderci. Infatti Clancy guadagna un gettone quando colpisce un brawler nemico e dopo aver raccolto una certa quantità di gettoni passa a fasi che migliorano i suoi attacchi. A differenza di energetic però le sue trasformazioni non vengono azzerate se si verrà sconfitti. Nella prima fase con 0 gettoni Clancy spara una palla di vernice, nella seconda fase con 15 gettoni spara 2 palle per ogni attacco, nella terza fase con 30 gettoni guadagna lo sparo in diagonale, sparando altre 2 palline a lato ad ogni attacco, guadagnando anche una maggiore velocità di movimento. La Super spara una raffica di palline di fronte a sé, in fase 2 le spara più lontano, in fase 3 infligge ancora più danni. Gadget, tiro rapido, Clancy ottiene gettoni doppi per 5 secondi facendolo salire di livello più velocemente. Ritirata tattica, Clancy scatta e ricarica di una munizione, questo potrebbe essere il migliore dei due, molto utile per scappare dai nemici in caso di necessità. Star power, ricognizione, Clancy inizia il gioco con 3 gettoni. Potere della carica, Clancy si ricarica ad ogni abbattimento del nemico, questa potrebbe essere la migliore ma dipende molto dal vostro stile del gioco e necessità. E queste sono le sue statistiche. Lo prenderai con accesso anticipato o aspetti che esca per tutti? Se ti è stato utile il video scrivilo nei commenti, seguici se non lo fai ancora e via!